Jey Uso apre la puntata di Raw, acclamatissimo dalla folla, per parlare di Backlash in Francia, però ovviamente viene interrotto subito da Demian Priest, campione del mondo dei pesi massimi, che dovrà difendere il suo titolo, proprio nel suddetto Premium Live Event. Il membro del Judgment Day si congratula con Jey Uso e poi fa riferimento a quanto accaduto tra di loro in passato con un episodio ben preciso in cui Jey ha spaccato le chiappe al membro della stable nero-viola, tanto che i due dopo sono andati a bere insieme, promettendosi a vicenda di essere i prossimi predestinati a vincere il titolo mondiale. Priest ha poi detto che aveva ragione perché loro sono il futuro, anche se non sono giovanissimi, anche se in realtà aveva mezza ragione perché lui è il futuro, lui è riuscito a conquistare il titolo, e l'industria gli ha dato in pasto Jey Uso solo perché deve sconfiggere gli avversari, deve avere dei number one contender, e quindi l'ex membro della Bloodline servirà solo a dargli lustro come campione. Jey ha preso parola chiamando Priest il leader del Judgment Day solamente perché Rhea Ripley è a casa infortunata, quindi di fatto ora è la puttanella di Dominic Mysterio, e quindi è pronto a sconfiggerlo e a diventare il nuovo campione mondiale dei pesi massimi a Backlash. Poi è arrivato JD McDonagh alle spalle, DJ ha attaccato il Samoano che è riuscito a difendersi, ha cercato di colpire il membro del Judgment Day con un superkick che si è spostato, e il calcione è finito dritto nel muso di Damian Priest. Buon promo, buon opener, buon modo per mandare avanti la faida, anzi per fare iniziare in realtà la faida. Match per i titoli di coppia, unificati, no che unificati che dico, i nuovi titoli di coppia, Artruth e Remitz contro i DIY Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. Un buon match, durato poco più di 10 minuti, vinto dai campioni, grazie alla combo Sky Crushing Finale e a una Flatliner di Artruth, la mossa è stata chiamata la Truth Crushing Finale, tipo. E dunque prima difesa titolata degli Awesome Truth, che con la mossa combinata hanno schienato Johnny Gargano in un buon match di coppia. Sicuramente solido, divertente da guardare, con degli ottimi performer, di fatto tutti e quattro dei babyface, però dopo il match Johnny Gargano si è complimentato coi campioni, invece Tommaso Ciampa, incazzato nero, se n'è andato senza farlo, coi fan che hanno fischiato lo psicopatico. Boh, vedremo se splitterà. Mi sembrerebbe un po' strano, perché è una trama già vista. Dominic Mysterio raggiunge JD McDonagh e Damian Priest, con un tutore al braccio, cioè Dominic aveva un tutore al braccio, insieme a Santos Escobar. Dominic ha chiesto a Santos di prendere il suo posto, visto l'infortunio, assistendo JD McDonagh. E Priest ha detto, fate quello che volete, non mi rompete le palle. Gunter sale sul ring, insieme all'Imperium, dicendo che è stato il miglior campione intercontinentale di sempre. Per quasi due anni ha avuto un grossissimo bersaglio sulla schiena, ma ora è quasi sollevato dall'essere tornato libero da questo fardello. Ora non è più la preda, ma è tornato ad essere predatore. Tra poco ci sarà il draft, siamo in una nuova era della WWE, ma ciò che conta è che lui sarà il capo di questa nuova era. Quindi si dichiara partecipante del torneo King of the Ring e poi, dopo quello, sceglierà a che titolo puntare. Il New Day ha interrotto l'austriaco con Xavier Woods, che ha detto di essere il King of the Ring in carica e vuole diventare un due volte re del quadrato. Gunter gli ha risposto che ridarà lustro a quella corona dopo averla strappata dalla testa di Xavier Woods. Vabbè, alla fine gli sgherri si sono intromessi. New Day contro Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci, match durato anche qui una decina di minuti, vinto dal New Day grazie al double stomp di Xavier Woods ai danni di Vinci, mentre Kofi lo teneva fermo. Due team super talentuosi, vittoria pulita dei Babyface con l'Imperium, che dopo il match è esploso perché Gunter si è incazzato come una iena, Kaiser ha abbracciato Vinci, gli ha baciato la pelata e poi lo ha spappolato. Prima contro i led del ring, poi contro il paletto, poi contro i gradoni, eccetera, eccetera. E dopo tutto ciò Gunter si è complimentato con Kaiser. E visti i recenti licenziamenti non mi sorprenderebbe vedere un Giovanni Vinci licenziato, attenzione. Video promozionale su Andrade. Drew McIntyre incazzato come non mai, strano, si presenta per insultare CM Punk, dicendo che Punk odia il WWE Universe più di tutti, tranne che di se stesso. Poi ha risposto gli What dicendo, se dici What baci in bocca a tuo cugino, vabbè lasciamo stare, ha chiamato Pippaioli i fan, il Drew Hater mi sta facendo impazzire, e poi ha insultato prima Priest per rincasso da codardo, poi Juso per la vittoria da codardo, e quindi anche lui punterà a diventare King of the Ring. Shimus lo ha interrotto per dirgli che i due erano molto amici, però ora Drew gli sembra il solo codardo, perché non si prende mai le sue responsabilità e le responsabilità delle sue sconfitte. Loro due si conoscono da più di vent'anni. Per quattro anni McIntyre è stato derubato dal suo Vrestelmenia Moment e poi lo ha avuto a Vrestelmenia 40, ma ha gettato tutto nel cesso per questo suo nuovo modo di fare, sia sui social media che da hater di CM Punk. E nonostante i due siano amici è arrivato al punto di voler vedere CM Punk prendere a calci nel culo Drew McIntyre. Quindi Drew è passato al body shaming su Shimus, perché prima dell'infortunio Shimus era banger dopo banger dopo banger, dopo l'infortunio è diventato burger dopo burger dopo burger. Damn, calmo Drew. L'irlandese gli ha risposto che è diventato bravo con le frasi ad effetto, ma mentre lui può sempre perdere peso, la stupidità di Drew McIntyre non lo abbandonerà mai dal cervello. Comunque sia una chiacchierata tra due ex amici o comunque due amici di lunga data che ora sono su una lunghezza d'onda differente, con Shimus che sembra voler far rinsalire Drew McIntyre, ma probabilmente questo porterà solamente ad un loro match. Shinsuke Nakamura contro Shimus, vittoria per Shimus dopo una decina di minuti, il povero Shinsuke Nakamura ormai perde anche contro l'arbitro. Infatti si è preso un broad kick dritto nel muso per subire lo schienamento finale, ed è pura transizione per il guerriero celtico che a questo punto punterà a Drew McIntyre, mentre Nakamura continua ad elevare i suoi avversari face, ma boh. Sami Zayn dice che è pronto ad ascoltare le motivazioni di Chad Gable, ma viene interrotto da Bronson Reed che gli dice che ha problemi più grandi al momento. Il canadese gli ha risposto, se vuoi questo titolo, dove e quando vuoi, sfidiamoci. Sfidiamoci dove e quando vuoi, perché sono il giardiniere Willy dei Simpsons. Bronson Reed ha poi attaccato Sami Zayn, lo ha scagliato in giro per il backstage, e poi lo ha spiattellato mentre il personale WWE si sincerava delle condizioni dell'Underdog from the Underground. Chad Gable si presenta con l'Alpha Academy sul ring e li flamma tutti, malamente. Il leader dell'Academy ha detto che mentre Sami Zayn festeggiava con sua moglie, lui ha ripensato al fatto che doveva esserci lui a WrestleMania. È stato lui ad aiutare il canadese a battere Gunther, ma invece ha perso tempo ad allenare Sami Zayn. E oltre a Sami Zayn anche i perdenti che sono nella sua stable. Quindi ha blastato Akira Tozawa, che fa sempre il deficiente, ma viene sempre sconfitto. Ha flammato Maxine Dupree, dicendole che è molto carina come una principessa, ma è stupida come una scatola di sassi, dandole della patetica. Mentre Otis è semplicemente la delusione più grande di tutte. Ora devono svegliarsi e devono vincere il titolo intercontinentale insieme. Con Otis che ha detto, ok, va bene, ti aiuterò in qualsiasi caso, damn. Quindi tutta la stable è tornata ill insieme a Chad Gable, oppure lo tradiranno prima o poi. Non lo so, però bravo Chad Gable. Ricochet incontra Dominic, gli dice che avrebbe voluto sconfiggerlo, ma Dominic è infortunato, quindi un po' gli dispiace. Per Ricochet se n'è andato e Dominic ha incrociato Liv Morgan, quella che ha fatto fuori la mami, con i due che si sono guardati in cagnesco. Naya Jax dice che vuole vincere la Battle Royale per diventare campionessa. Andrade Ricochet contro JD McDonagh e Santos Escobar. Vittoria per Andrade Ricochet dopo una dozzina di minuti. Gran match. Match veramente divertentissimo, costruito quasi per caso, però con degli ottimi performer, infatti non ha deluso. Andrade ha hitato la sua shadow su JD McDonagh, ha preso lo schienamento decisivo, però hanno buttato in mezzo tanta roba figa, tipo la ricarrana su Ricochet che ha connesso un leg drop su JD McDonagh. Da pazzi. Gran bello spot. Dopo il match, Demian Priest ha attaccato Ricochet, Andrade stendendo tutte e due, uno con la Razor's Edge e l'altro con la South of Even, dicendo che lui non ha bisogno di nessuno, mentre Judgment Day ha bisogno di lui. Non è che sta per separarsi dalla stable? Vedremo, vedremo. Un sacco di chiacchiere delle ragazze impegnate nella Battle Royale, Becky Lynch, Candy Serene di Hartwell, Zoe Stark, Liv Morgan, Nia Jax, con queste ultime due intente a insultarsi, urlare, menarsi, vabbè, bla bla bla. Battle Royale, difficile da analizzare come al solito, vinta da Becky Lynch, ma guarda te che novità, che diventa nuova campionessa femminile dopo una ventina di minuti. Non è stata neanche terribile come contesa, hanno avuto parecchio tempo, hanno raccontato alcune storie nello stesso match, nonostante sia abbastanza difficile quando ci sono tante performer coinvolte, e Becky Lynch è riuscita a resuscitare, arrivare in fondo contro Nia Jax e Liv Morgan, e a trionfare col suo manhandle slam sull'apron, ai danni proprio di Liv, diventando una sette volte campionessa femminile. L'irlandese ha festeggiato con i fan, sono partiti un po' di fuochi d'artificio, e brava Becky Lynch. Non mi aspettavo onestamente la sua vittoria, mi aspettavo più o Nia Jax o Liv Morgan, e invece, vabbè, ci sta di men, è comunque una delle atlete più importanti della federazione. Dunque, una puntata di Ria discreta, non la chiamerei eccezionale, non la chiamerei magnifica, è quel periodo post-Vrestlemania che un po' di piattume ce lo dà, poi vabbè, c'è stato l'infortunio di Ria, quindi abbiamo un match titolato, c'è stato quello per i titoli di coppia, stanno setappando un po' di roba per il futuro, come Drew contro Shimus, Jey Uso contro Demian Priest. Non mi è dispiaciuta, non mi ha fatto impazzire. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo episodio, dal vostro staff fedele è tutto anche per oggi, e vi do appuntamento a non so quando. Ciao! Grazie a tutti!